150 al giallo attenzione attenzione sinistra stretta sinistra stretta vai per 500 trovi la scicca a destra vai per 600 trovi la scicca a destra doppia vai per 500 stai a sinistra stacca per attenzione attenzione scicca a sinistra doppia stretta è doppia è stretta vai per 300 stacca per inversione destra all'arancio destra all'arancio subito inversione sinistra due tempi sinistra due tempi subito destra quattro vai per 300 stacca scicca a destra destra 300 stacca scicca a destra doppia doppia sinistra vai per 150 al rosso stai in alto per scicca a sinistra vai 150 su dosso all'arancio stacca per inversione destra per inversione sinistra vai per 200 stai a sinistra per scicca a sinistra doppia doppia sinistra doppia vai per 150 è doppia vai per 150 stai a destra stacca per all'arancio attenzione sinistra destra due sinistra destra due vai per 200 al giallo stacca per attenzione attenzione destra sinistra stretta finisci il secondo fai per 500 scicca a destra fai per 600 stacca per scicca a destra doppia destra doppia vai per 500 stai a sinistra stacca per attenzione attenzione scicca a sinistra doppia stretta doppia stretta vai per 300 stacca per inversione destra all'arancio destra all'arancio subito inversione sinistra due tempi sinistra due tempi subito destra 4 vai per 300 stacca per 300 stacca per scicca a destra 300 stacca per scicca a destra doppia destra doppia vai per 150 al rosso stai in alto per scicca a sinistra stai in alto per scicca a sinistra guarda la scicca a vai 150 sotto all'arancio stacca per inversione destra per inversione sinistra vai per 200 stai a sinistra per scicca a sinistra doppia vai per 150 stai a destra stacca per all'arancio attenzione sinistra destra due vai per 200 al giallo stacca per attenzione attenzione destra sinistra stretta inizio terzo vai per 500 scicca a destra destra vai per 600 stacca per scicca destra doppia destra doppia stacca per scicca vai per 500 stacca per scicca a destra dai a sinistra per attenzione attenzione scicca a sinistra doppia stretta sinistra doppia stretta vai per 300 stacca per scicca a destra stacca per inversione all'arancio stacca per inversione destra subito inversione sinistra due tempi sinistra due tempi subito destra a 4 destra a 4 vai 300 stacca a scicca a destra 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 è l'ostano quello dietro eh 300 stacca cicca a destra doppia destra doppia vai 150 vai 150 al rosso stai in alto per scicca a sinistra scicca a sinistra vai 150 su d'osso all'arancio stacca per inversione destra per inversione sinistra vai per 200 stai a sinistra per scicca a sinistra doppia doppia vai per 150 stai a destra stacca per all'arancio attenzione sinistra destra due vai per 200 al giallo stacca per attenzione attenzione destra sinistra stretta cominci in quarto e poi ci sono per 5 sinistra stretta vai per 500 giro scicca a destra siccca a destra vai per 600 vai per 600 Vai per 500, stai a sinistra, stacca per attenzione, attenzione, scicca a sinistra, doppia, stretta, doppia, stretta. Vai per 300, stacca per inversione destra all'arancio, destra all'arancio, subito inversione sinistra a due tempi, subito destra a quattro. Vai per 300, stai andando bene, va bene così, stacca scicca a destra, 300, stacca scicca a destra, doppia, doppia. Vai 150, al rosso, stai in alto per scicca a sinistra. Vai 150, sudosso, all'arancio, stacca per inversione destra, per inversione sinistra. Vai per 200, stai a sinistra, per scicca a sinistra, doppia. Vai per 150, stai a destra, stacca per all'arancio, attenzione, sinistra, destra a due. Vai per 200, al giallo stacca per attenzione, 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 destra a sinistra, stretta, cominci l'ultimo. Per sinistra a sinistra, vai per 500, stacca a destra, vai per 600, stacca per scicca a destra, doppia. Destra, doppia, destra, doppia, vai per 500, stacca per attenzione, attenzione, scicca a sinistra, doppia, stretta, sinistra, doppia, stretta. Vai per 300, stacca per inversione, stacca per inversione destra, all'arancio, subito, inversione sinistra, due tempi. Subito, destra a 4, destra a 4, vai per 300, stacca a scicca a destra, 300, stacca a scicca a destra, doppia, destra, doppia. Vai per 150, a rotto, stai in alto, per scicca a sinistra, stai in alto per scicca a sinistra, vai 150, subito, all'arancio, stacca per inversione destra, per inversione sinistra e poi esci, stai a destra. Destra per sinistra, poi esci, stai a destra. Ok.